Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di bonifica del territorio alle cesane di Fossombrone, dove nella notte di Ferragosto era scoppiato un incendio che aveva richiesto il pronto intervento di diversi mezzi, tra cui un elicottero, per spegnere le fiamme. Quattro le squadre dei vigili del fuoco intervenute per placare il rogo, insieme ai carabinieri forestali e alla protezione civile. Le fiamme erano state spente già nella giornata di ieri, ma i vigili del fuoco, insieme alla protezione civile, hanno monitorato la situazione anche durante la notte a causa della presenza di forte vento e per evitare nuovi focolai. Il bilancio finale delle operazioni segnala che le fiamme hanno complessivamente distrutto un ettaro di bosco e vegetazione. Nella serata di ieri, invece, intorno alle 20, un altro incendio di importanti dimensioni si è verificato a Senigallia, più precisamente in Viacellini, vicino allo svincolo della complanare. Le fiamme hanno avuto origine in un campo che costeggia la strada, e a causa del forte vento, le colonne di fumo, generate dalla vegetazione andata a fuoco, sono state ben visibili da più punti della città. Tre le squadre di vigili del fuoco di Senigalli, Arcevi e Ancona, che sono intervenute sul posto e che nella tarda serata sono riuscite a domare il rogo. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento e di bonifica del terreno, mentre ai residenti della zona è stato chiesto di tenere chiuse sia porte che finestre. Fortunatamente non si sono registrate persone ferite. Ancora ignote, invece, le cause che hanno generato le fiamme.